Anche Piacenza è stata invasa da questa mattina dai tradizionali cartelli dei saldi invernali, partiti con grandi aspettative. C'è fiducia nei commercianti piacentini, ci si augura di sfruttare la già positiva tendenza all'acquisto di Natale. L'unica perplessità riguarda il periodo. Quest'anno sono iniziati troppo presto. Primo giorno di saldi, quali aspettative? Dunque, le aspettative sono buone quest'anno, perché si calcola, su stime ConfCommercio e Federmoda, un piccolo aumento della spesa pro capi, siamo in ordine di 137-140 euro a persona, per cui un piccolo aumento. Dopo, devo dire, un dicembre tutto sommato positivo, con una voglia di un primo ritorno in negozio. Dopo il Covid, la prima voglia dello stare in contatto in negozio, della comunicazione, del provare i capi e del fermarsi un po' di più in negozio per la comunicazione. Si doveva partire dopo? Domanda 100 pistole, sì, dai, si doveva partire dopo. Ma perché il caldo, oramai le stagioni sono cambiate, il caldo si protrae fino a ottobre, inizio a novembre. Per noi commercianti rimangono alla fine due mesi di vendita piena e anche per voi si crea comunque un'enorme confusione in questo senso. Poi non consideriamo che fino a cinque giorni fa tantissimi regali di Natale, tantissime cose, troverà proprio la merce subito scontata, credo non sia bello per nessuno. Per noi che vendiamo e per voi consumatori, comunque fate tutti dei bei regali di Natale. Invece andando un po' più avanti e personalmente, a mio parere, accorciare la durata dei saldi, sicuramente credebbe un incentivo notevole del tutto e anche un po' più di movimento, un pochino più di fregola diciamo. Speriamo bene, insomma, è ancora un po' troppo presto per trarre le conclusioni e speriamo bene. Sfortunatamente il tempo e il meteo non aiutano perché un giro in centro storico con la pioggia magari alcune persone sono un pochettino più restie, però speriamo insomma. Avessi preferito fossero iniziati dopo? Ovviamente avremmo preferito fossero iniziati qualche giorno un pochettino più in là. Diciamo che c'è abbastanza attesa. Abbiamo già visto in apertura alcune persone cariche, quindi tutto questo ci fa insomma ben presagire. La cosa interessante è che già Natale è andato bene, quindi insomma ci aspettiamo che vada altrettanto bene questo periodo. Si è parlato della data di inizio di questi saldi, è giusto? Si poteva posticipare? Ovviamente si poteva posticipare anche secondo noi perché comunque, come abbiamo tutti visto, l'inverno non è ancora uscito. Quindi insomma iniziare in questo momento è un po' tagliarsi le gambe.